allora eccoci di nuovo un'altra puntata con un'altra veloce recensione no non è una recensione ma è un consiglio di lettura come sempre ho messo il cappello perché devo tagliare i capelli quindi adesso sto così comunque parliamo di oltre il blu di nevio galeati edizioni clown bianco allora giusto fare una premessa prima io a nevio galeati sono particolarmente legato perché qualche anno fa più di quelli che vorrei ammettere è stato insegnante di un corso di giornalismo che ho fatto alle scuole superiori corso giornalismo da cui poi dopo nacque il giornalino del dell'istituto del liceo e quella è stata la prima volta che ho cominciato a scrivere per far leggere qualcuno e non fosse un tema scolastico che non fosse il diario che era destinato solo a me o i miei pensieri con destinati solo a me quindi quello per me è stato l'apertura verso un mondo che è quello della della scrittura quindi a lui sono particolarmente affezionato questo è un un libro un po' particolare perché lui fa due cose che l'editoria italiana non vuole vengano mai fatte uno fa una raccolta di racconti che non so perché ma in italia sono visti come non so il peggiore dei mali possibili e l'altra cosa fa un cambio di genere perché lui è uno scrittore di gialli noir insomma tutto quello che riguarda il mondo dei libri gialli e qui invece fa una raccolta di racconti in cui non c'è traccia di giallo thriller o cose simili quindi fa due cose che non andrebbero mai fatte ma se uno poi le fa dannatamente bene benvengano questo per me è stato questo libro qui per me è stato una una scoperta allora ci sono 13 racconti e intanto ho capito perché c'è un po di resistenza rispetto a le raccolte di racconti perché molti racconti molte storie breve in realtà sono potenzialmente dei romanzi che non hanno la forza di di crescere e di svilupparsi quindi c'è da parte dell'autore o per pigrizia o per che non c'è la volontà l'interesse la capacità o quant'altro ci sono questi che tu leggi e capisci che sono embrioni di romanzi ma poi non vengono non esplodono mai sono proprio delle 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 estreme sintesi in cui manca qualcosa ecco invece questi sono 13 racconti cioè non poi logico che di tutti quanti tutti potresti immaginare anche un un libro qualcosa di più ma questi sono racconti sono famosi cerchi che si chiudono al del fatto che si chiude o meno la storia è proprio uno spaccato che viene fotografato e raccontato ecco questo secondo me è è l'aspetto che 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 più mi ha colpito cioè non c'è nulla di sospeso adesso sto leggendo un'altra cosa dove ci sono dei racconti in cui invece ho proprio la sensazione che non so lì sono autori vari magari è stato chiesto di partecipare a questa raccolta e loro hanno buttato giù qualcosa che avrebbe dovuto e potuto essere altro ma è rimasto un racconto questi invece di nevio galeati sono racconti che hanno una loro equilibrio è una loro chiusura e stanno su benissimo quindi questa è una cosa che mi è piaciuta e leggendoli mi proprio mi sono reso conto di questo aspetto qui l'altra cosa che mi ha colpito molto è come abbiamo detto lui cambia genere rispetto a quello che è il genere in cui si muove quindi fa quella famosa operazione di uscire dalla zona di comfort e ci riesce secondo me esaltando la sua scrittura a me piace come scrive vi ho detto poi ho un affetto per per lui legato a altri motivi quando c'è delle presentazioni in cui lui presenta l'ascolto sempre molto volentieri è una persona che stimo quindi questo mio giudizio evidentemente risente anche di questo però per quanto lui mi sia sempre piaciuto come scrittore gli abbia sempre riconosciuto delle capacità narrative qui secondo me si esalta qui proprio la scrittura mi sembra per quella che la mia percezione ha un altro livello rispetto al suo standard che per me già molto 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 alto qui secondo me la scrittura raggiunge un livello ancora superiore io non so se è perché si è liberato dello schema del giallo del noir che un po' un po' timbriglia e qui si sia sentito libero oppure questa fosse una cosa che stava fermentando da tanto tempo e aveva bisogno di tirarla fuori ma ha tirato fuori 13 racconti scritti veramente bene con un linguaggio che mi è piaciuto tanto con una narrazione che mi è piaciuta tanto e quindi è sicuramente un libro che vi consiglio appunto 13 racconti l'ho ripetuto tante volte 13 e tutte le volte che lo ripeto mi viene il dubbio che non siano 13 non c'è alla fine l'elenco dei racconti ecco questa è una cosa che io l'avrei messa ecco per dire che sono anche un critico severo nel dire le cose io alla fine l'indice dei racconti l'avrei messo comunque al di là di questo oltre blu di nevio galeati una raccolta di racconti che vi sorprenderà e per quel che mi riguarda mi avvicina al mondo dei racconti che invece molto spesso mi ha deluso per il tema che che vi dicevo prima per esempio quelli che sto leggendo adesso in realtà mi stanno allontanando un po però qui non ho null'altro da raggiungere non si possono fare cenni su le storie ce n'è di diverso tipo che toccano diversi ambiti si va veramente in tante direzioni ognuna molto interessante e circoscritta quindi una lettura che vi consiglio vi consiglio perché è bella la narrazione è bello lo scorrere delle parole adesso non so come ci sarà un modo intelligente per dire è bello lo scorrere delle parole come sono messi in fila le parole come sono messi in fila il racconto come messi in fila la storia come messi in fila tutto quanto e poi sono molto belle le storie sono molto belle le storie sono molto belli personaggi quindi per non andare oltre per come al solito non annoiare nessuno ve lo consiglio è uscito da non molto mi sembra un mese scarso per clown bianco che è la casa editrice che ha pubblicato anche questo qui qui di questo così lo diciamo chiaramente questo comunque adesso dai tutto sia una marchetta io a nevio galeati voglio bene e secondo me questo è un gran libro clown bianco voglio bene secondo me questo è un gran libro poi siccome scrivo so scrivo vi racconto nei video solo di libri che mi sono piaciuti non ve ne avrei parlato ecco questo è il senso comunque basta direi che siamo arrivati alla fine di questo da zibao che è il numero non mi ricordo e basta al prossimo libro che mi interesserà un altro video in cui vi consiglierò di leggerlo per il momento oltre il blu nevio galeati clown bianco una raccolta di racconti che è una cosa che l'editoria italiana non non apprezza un cambio di genere che è una cosa che l'editoria italiana non apprezza nel senso che se nasci romanziere muori romanziere se nasci giallista muori giallista se nasci ho finito le definizioni che mi vengono in mente muori ho finito le definizioni che mi vengono in mente invece lui fa sta cosa qui e nel farla sale di un livello c'è niente da dire grazie